La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti con la categoria diritto bancario e il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno diritto bancario leasing. Il premio va a studio legale avvocato Giovanna Bigi. Eccola che arriva da quell'ala e naturalmente il nostro blue carpet è a disposizione e intanto andiamo a leggere la motivazione del premio. Per la consolidata e pluriennale esperienza dello studio nella redazione dei contratti, nell'assistenza e nella consulenza sulle problematiche dell'allocazione finanziaria, il prestigio, la reputazione e la profonda conoscenza della materia, ne fanno una boutique di eccellenza nel diritto bancario e leasing. Complimenti. Complimenti, buonasera. Siamo in compagnia dell'avvocato Giovanna Bigi, fondatrice dello studio legale, avvocato Giovanna Bigi. Benvenuta. Grazie, buonasera. Allora, innanzitutto, avvocato, mi congratulo per il riconoscimento ottenuto e le chiedo subito qual è stato proprio il segreto del successo dello studio e cosa anche vi caratterizza. Guardi, intanto ringrazio tutti per questo premio perché per noi era inaspettato e per questo ancora più meraviglioso, ancora più una sorpresa per noi e una gioia condividerlo tutti insieme in studio. Ciò che ci caratterizza sicuramente è l'alta specializzazione. Lo studio da 20 anni opera nel settore bancario e in particolar modo del leasing. In questi anni abbiamo potuto eseguire veramente tantissime procedure, pratiche di ogni valore. abbiamo avuto un succedersi di clienti, fusioni, incorporazioni e poi le cartolarizzazioni e in tutto questo credo che quello che ci abbia contraddistinto sia stato l'entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco, di studiare, di migliorare. Sicuramente siamo uno studio dinamico e giovane, siamo molto affiatati tra di noi, ognuno ha dei compiti particolari che assolve perfettamente e diciamo che lavoriamo, ci divertiamo, abbiamo delle ottime soddisfazioni con i clienti. Quindi forse il segreto è stato quello di impegnarsi, studiare, crederci, lavorare con impegno e con onestà direi perché anche questo penso che paghi sempre in ogni professione, nella nostra in particolare, perché comunque credo che l'Avvocato abbia anche un valore morale da dover dimostrare, quindi una lealtà, una correttezza dei principi regolatori, ispiratori, sia del diritto che ritengo che l'Avvocato debba portare nella società nel modo in cui poi risolve i problemi e le varie situazioni. Ecco, chi si sente diciamo di ringraziare o anche a chi vuole dedicare questo prestigioso premio? Dunque le persone sarebbero veramente tante da ringraziare in questa circostanza, sicuramente i miei collaboratori perché ripeto lo studio è altamente specializzato in questa materia, i miei collaboratori studiano con me, poi ognuno di noi ha un settore particolare che segue, chi segue in particolare il merito, chi le esecuzioni ed ognuno di loro è veramente saldamente al proprio posto, per cui mi sento veramente di condividere con loro questo premio, questa gioia. Questa sera non sono con me, ma insomma ci siamo sentiti anche poco fa e sono veramente insomma uniti in questo premio. E poi sicuramente i miei clienti perché sono quelli che mi hanno permesso di essere qui e sono quelli che mi hanno dato tantissime opportunità. Io ricordo ancora una delle prime volte quando da giovane avvocato sono entrata in banca e mi affidarono uno dei primi incarichi e insomma ci sono persone che hanno creduto in me e che io non dimentico e poi sono anche persone che mi hanno molto ispirato perché erano persone molto molto semplici ma al tempo stesso ricche di cultura, di umanità, di professionalità e quindi sono state per me degli esempi veramente a cui ispirarmi. E poi da ultimo ma non da ultimo per importanza sicuramente mio marito, i miei figli e la mia famiglia che comunque mi hanno sempre supportato perché indubbiamente quello di svolgere una professione è un lavoro impegnativo per una donna ancora di più e quindi mi hanno sempre permesso di conciliare la mia vita professionale con quella familiare in un modo meraviglioso direi. E quindi sicuramente anche grazie a loro che ho potuto svolgere quello che volevo e sono potuta arrivare fino a questo successo. Ecco e adesso diciamo quali sono i progetti e gli obiettivi che vi siete prefissati per il futuro? Per il futuro abbiamo obiettivi ambiziosi perché innanzitutto ci piace continuare in questo settore del diritto bancario sicuramente, il leasing è la materia in cui siamo altamente specializzati, scriviamo per riviste di diritto e questo anzi è un aspetto che vorremmo ampliare, abbiamo pensato anche ad un manuale ricco di sentenze e di spunti perché facendo da tantissimi anni questo settore quello che ci ha caratterizzato è proprio avere tanta giurisprudenza e tante novità giurisprudenziali, addirittura la teoria unitaria del leasing noi l'avevamo iniziata a scrivere nei primissimi atti quando ancora sembrava impossibile veder riconosciuto in tribunale questa teoria che si studiava un po' nei manuali e poi invece l'abbiamo trovata nel 2017 nella legge in materia del leasing quindi diciamo che lo studio ha sempre difeso e ha portato avanti questa questa teoria giuridica che poi è stata ecco anche recepita in una normativa legislativa e poi altra caratteristica dello studio è quello di essere molto diciamo all'avanguardia della tecnologia per cui noi lavoriamo tutto in cloud abbiamo una piattaforma telematica con cui ci colleghiamo siamo connessi e possiamo lavorare da remoto in ogni parte siamo connessi con delle piattaforme con la clientela e stiamo ampliando questa piattaforma fino a farla diventare interagibile anche da parte dei clienti speriamo di riuscire a portare a termine il progetto perché è molto bello anche innovativo lo ha seguito una azienda che è un'importante azienda nel campo dell'informatica che anche una cliente del nostro studio e ci ha insomma permesso di creare questa piattaforma molto interessante nella quale i clienti trovano tutte le loro posizioni collegandosi digitalmente quindi sicuramente all'avanguardia rispetto magari al pensiero di insomma del vecchio studio legale immaginato un po polveroso forse e poi e poi speriamo insomma di continuare nel settore nelle LPL nei nuovi clienti che abbiamo quindi tutte le cessionarie dei crediti bancari e non da ultimo insomma anche le imprese del nostro territorio nelle quali ci stiamo facendo conoscere